Ciao a tutti ragazzi qui come sempre Desk vi parla e oggi sono qui per spiegarvi come moddare tutti i Cubrow o meglio vi farò vedere la build che utilizzo sul mio Cubrow che è quello che state vedendo Acre Acre è un Uras quindi un Cubrow Stealth ma vi posso assicurare che la build andrà benissimo su tutte le altre tipologie di Cubrow perché come avviene per le sentinelle se avete visto i miei video esistono poche mod sia per le sentinelle sia per i Cubrow quindi non esistono particolari build alternative vediamo dal codex grazie alla sezione Companions quali sono le tipologie di Cubrow esistenti al momento abbiamo gli Uras che è come quello che vi dicevo prima che vi ho fatto vedere il mio Acre Acre è un Cubrow Stealth quindi sarà in grado di renderci invisibili renderà invisibili se stesso e poi il Warframe che staremo utilizzando ha valori di vita un po' più bassi rispetto agli altri ma in generale i Cubrow secondo me sopravvivono più a lungo rispetto alle sentinelle poi abbiamo il Raxa che è un difensore, una specie di tank che è in grado di rigenerare i nostri scudi un pochino come avveniva con la mod Guardian per le sentinelle e poi sarà in grado di emettere degli ululati che spaventeranno gli avversari attorno a lui dopodiché abbiamo il Saasa che è un digger, uno scavatore quindi sarà in grado così a caso di trovare delle risorse sottoterra quindi munizioni, sfere di energia eccetera e sta a voi valutare se secondo voi è una cosa utile o meno per il vostro stile di gioco dopodiché abbiamo il Sunika il Sunika in teoria dovrebbe essere una specie di assassino di cacciatore che nelle missioni di cattura va a braccare i VIP e li atterra immediatamente è il primo che ho avuto, mi è piaciuto molto anche perché era uscito abbastanza grosso e cattivo e quando azzannavo la gola i nemici era molto figo da vedere però devo dire che in definitiva Sunika e Saasa io non li considero particolarmente utili considero nettamente più utili il Raxa se si vuole un tank da supporto o l'Uras se si vuole comunque un supporto stealth e quindi aumentare la propria capacità, la propria probabilità di sopravvivere e con l'Uras veramente si riesce ad incrementare di parecchio le nostre chance di sopravvivenza un po' in qualunque missione in questo video non vi spiegherò nel dettaglio come far crescere un nuovo Cubrow come ottenere le uova se avete dei dubbi scrivete qui nei commenti se noterò insomma che tanta gente ancora avrà dei dubbi su come fare i Cubrow farò un video apposito ma in questo video vi spiegherò solamente come buildare tutti quanti i Cubrow prima di andare a vedere effettivamente come ho moddato il mio Cubrow devo precisarvi che i valori di vita, scudi e armatura dei Cubrow scalano sui valori di vita, scudi e armature dei Warframe che staremo utilizzando questo significa che mettere una Redirection sul nostro Warframe aumenterà sia gli scudi del Warframe e sia di riflesso gli scudi del nostro Cubrow ad esempio io in questo momento sto giocando un Excalibur che ha solamente vite e armatura quindi a scudi bassi di conseguenza anche il mio Acre Acre, il mio Cubrow Uras avrà degli scudi più bassi rispetto a vita e armatura non a caso le mod difensive dei Cubrow si chiamano Link Armor, Link Health e Link Shield insomma c'è un motivo proprio perché questi valori sono linkati e condivisi fra Cubrow e Warframe non significa che avranno gli stessi valori significa però che saranno proporzionati fra di loro quindi aumentare i valori di vita, scudi e armatura del nostro Warframe ci aiuterà ad aumentare ulteriormente questi valori sul nostro Cubrow e poi maxare queste mod ci aiuterà ulteriormente ad aumentare i valori difensivi dei nostri Cubrow dunque io sul mio Cubrow ho deciso di installare un reattore quindi ho 60 punti di capienza e poi ho abbondato con le forme, ne ho utilizzate 4 anche se ancora non basterebbero per maxare tutto quanto però vi consiglio se vi interessa utilizzare un Cubrow come si deve mettete un reattore e fate in modo di avere almeno 3 polarità D e 2 polarità V in questo modo già avrete la possibilità di tirare su diverse mod e di avere dei valori difensivi e offensivi piuttosto buoni sul vostro Cubrow poi abbiamo 2 polarità innate che sono un po' come i precetti delle sentinelle sono appunto dedicati alle abilità dei Cubrow che comunque non costano parecchi punti e una è un'abilità di attacco, in questo caso Hunt per il mio Uras e l'altra è Stalk che è poi l'abilità vera e propria tutti i Cubrow avranno un'abilità di attacco che utilizzeranno assieme agli attacchi normali ogni tanto decideranno di utilizzare un attacco un po' più particolare e poi la loro abilità, l'abilità dell'Uras è quella che ci permette di invisibilizzarci quindi molto molto utile altre mod indispensabili sono ad esempio Pack Leader che ci permette di curare il nostro Cubrow infatti attaccando in corpo a corpo gli avversari il 36% del danno che faremo andrà a curare il nostro Cubrow quindi molto utile in particolare se giocheremo molto corpo a corpo Royal Companion andrà ad aumentare il bleed out del nostro Cubrow cos'è il bleed out? il bleed out è il sanguinamento quando andremo KO o meglio quando andrà KO il nostro Cubrow in questo modo allungheremo il timer il tempo che avremo a disposizione per rintracciare il nostro Cubrow nella mappa e rianimarlo infatti non sempre è facile trovare il Cubrow nel casino generale poi importantissime Maul e Byte queste mod vanno ad aumentare esponenzialmente il danno fisico del nostro Cubrow i Cubrow fanno solamente danno da taglio purtroppo per il momento è così speriamo che in futuro lo rendano un po' più personalizzabile Maul come Hornet Strike, Serration, Pressure Point si limita ad aumentare esponenzialmente i danni base del nostro Cubrow mentre Byte è una mod allucinante che racchiude in sé un bonus di probabilità critica e di danno critico se esistesse una mod del genere per altre armi sarebbe veramente overpowered il problema di questa mod è che è un po' difficile metterci le mani sopra ed è molto costosa da maxare però è veramente veramente utile ragazzi vi ho spiegato le cose fondamentali io ho chiuso poi la build con Scavenge che ci dà il 90% di probabilità o meglio la Dalkubrow di aprire armadiatti rossi quindi quelli chiusi è la mod che garantisce la probabilità più elevata se non sbaglio di aprire armadiatti chiusi quindi se vi interessa aprirli è una mod ottima se non dovesse interessarvi potete sempre andare a chiudere con Shelter che è esattamente identica a Sanctuary per le Sentinelle quindi crea uno scudo attorno a noi quando andremo a rianimare un alleato è un po' come per Sanctuary se saremo a livello molto alto bisognerà avere questa mod maxata o quasi altrimenti non ridurrà, non assorbirà bene i danni dei nemici una mod di cui non ho parlato è Fast Deflection quella che aumenta la velocità di ricarica degli scudi secondo me è poco utile in particolare nella mia build in cui ho dei valori di scudi molto bassi doveste avere valori di scudi più elevati potreste ad esempio decidere di giocarvi anziché vita e armatura giocarvi scudi e velocità di ricarica degli scudi a me non piace ma nessuno vi vieta insomma di provare anche questa combinazione adesso vi lascio un breve gameplay in cui vi faccio vedere i Cubrow in gioco in particolare insomma l'Uras ho deciso di simulare uno scontro contro 10 lancer corrotti livello 30 quindi uno scontro perfettamente nella media e vediamo insomma cosa succede, come si comporta il nostro Cubrow adesso utilizzo un Uras e quindi ovviamente ci renderà invisibili nel momento in cui i nemici arriveranno ad una certa distanza da noi noi potremo utilizzare tutte le nostre abilità senza rischiare di ritornare visibili ovviamente se decidessimo di attaccare con le nostre armi primaria, secondaria o corpo a corpo torneremo immediatamente visibili potremo saltare, potremo sprintare, rotolare non usciremo comunque dall'invisibilità l'unico modo per uscire da questo stato di invisibilità è appunto attaccare adesso attaccherò quest'unità proprio per uscire dall'invisibilità per farvi vedere che tendenzialmente l'Uras secondo me diventa più aggressivo nel momento in cui è visibile quindi è più facile che attacchi quando saremo visibili quando sarà steltato secondo me tende a rimanere un attimino più sulla difensiva adesso sparerò a caso evitando il nemico vedete il Cubrow utilizza subito la sua abilità di attacco infatti i Cubrow hanno due tipologie di attacco in genere uno è l'attacco normale, un po' come se utilizzasse degli attacchi base corpo a corpo con i propri artigli e uno invece è l'utilizzo della sua abilità di attacco nel caso dell'Uras è una sorta di carica che può travolgere più di un nemico e in genere tende a one-shotarli l'avete vista adesso pochi secondi fa adesso invece sta attaccando con degli attacchi base in questo caso aveva iniziato ad attaccare il nemico prima di diventare invisibile e diventato invisibile ha continuato a colpirlo comunque rimane secondo me il discorso che il Cubrow, l'Uras appunto in particolare è più aggressivo nel momento in cui è visibile nonostante questo però tenderà ad attaccare a volte anche da invisibile a presto! Grazie a tutti.